Ciao amici, sto preparando il pranzo, oggi tortellini con la panna e per secondo, come si chiama quel pesce, ma mi sa che mangio solo il primo. Sto ingrassando la dismisura, questo un po' mi dispiace, penso che quando ero giovane passavo che sarei rimasto magro tutta la vita, va bene, a parte questa amenità vi auguro buon pranzo. Grazie a tutti.